ciao ragazzi mi chiamo roberto questo il mio primo video voglio rendere partecipi di una cosa che voglio fare io sono grande appassionato di moto ho avuto una moto guzzi fino adesso è un gran motorone la breva 1100 bella bellissima bravissima proprio una grande moto ecco niente da dire ecco però ho voluto fare un salto ho voluto passare alle giapponesi mi sono preso un bel fazer 600 e nel portarlo a casa la mia prima impressione è stata grande maneggevolezza leggerissima e praticamente l'ho portato a casa però era un po da mettere a posto volo metterla a posto un po come volevo io e allora quindi adesso sono qua a illustrarvela com'è adesso e poi pian piano che andiamo avanti vi farò vedere com'è che andrà a concludere questo progetto della fazer 600 che io ho acquistato usata con 36 mila chilometri però in buono stato motore tutto è un pochino da sistemare leggo un po da cambiare però adesso ve lo illustro com'è che adesso poi ci saranno degli altri video per farvi capire i progressi e e come andrà a finire questa moto qua adesso aspettate che vi giro la telecamera se si può girare no non si può girare va bene ok allora vi faccio vedere purtroppo ecco questa qua è la moto guardate ecco e senza cupolino senza specchietti perché la sto sto cercando dei specchietti originali perché prima c'era degli specchietti che erano non originali e praticamente succedeva questo che nei specchietti che io avevo praticamente c'era questa roba qua guardate guardate qui questi buchi qua però se io metto gli specchietti originali c'è una cuffia che praticamente va a coprire questo pezzo qui e quindi sta anche molto meglio capito adesso vi porto a vedere ancora la moto guardatela come vedete che è smontata purtroppo c'è anche i suoi scarichi visto ragazzi purtroppo la moto adesso così sto aspettando gli specchietti poi andrò avanti con gli specchietti il parabrezza sto cercando di metterlo a posto e andiamo avanti e vi tengo aggiornati negli altri video e alla prossima ciao ciao